Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Reccoci qui con The Surge 2 e riprendiamo da questo punto dove c'eravamo interrotti l'ultima volta. Allora volevo provare ad aumentare un po' di livello. Vorrei provare ad equipaggiare questo impianto qua. Eseguendo una sequenza di uccisione ripristini la tua salute. Però non mi basta l'energia nucleare quindi adesso volevo aumentare un po' di livello e pian piano... Ah ecco non basta. Gestiamo un po' questi punti. Ok ma non credo basti. Ah ho sbloccato il trofeo potenziamento. Eh sì perché ho sbloccato anche questo slot. No non basta ancora. Forse possiamo mettere... possiamo togliere questo e mettere quest'altro e adesso dovrebbe essere sufficiente. Sì. Ancora uno slot libero a cos'altro possiamo aggiungere. Magari metto questo impianto qua. Aumenta il danno inflitto ai nemici umanoidi organici. Visto che comunque ce ne sono parecchi. E in questo video vorrei fare un giro veloce di nuovo nelle zone dove siamo già stati. Magari potenzio anche questa arma se riesco. Eccola qua. Sì. Ce la facciamo. Perché alla fine mi sto trovando bene con questi martelli qua. Adesso a che punto siamo. Danno 226. E poi magari potenzierò anche l'armatura. Ah qua è riuscito ad aprire la porta. Quell'altro compare diciamo. Di qua ce ne andiamo ai sotterranei e avrà preso quello che c'era lì dentro. Allora facciamo un giro veloce perché abbiamo ottenuto una tessera nell'ultimo video. Ci rifacciamo il giro magari dall'altro lato. E vediamo perché secondo me c'è qualcosa che adesso possiamo sbloccare. Ci facciamo un giro un po' veloce. Adesso già non mi ricordo più. Ah ecco intanto possiamo controllare questo. Questo esoscensore qua. Il gancio teleferico è mancato. E non possiamo più tornare indietro però. Perché prima di dare via il gancio a quell'altro soldato là. Magari ci facciamo prima un giro vediamo se c'è qualcosa che può tornarci utile. Allora qui c'è una batteria e ho intravisto anche la nota audio. E allora ecco perché hanno scelto i bambini. magari metto anche se riesco lo stendardo allora vabbè non mi sembra ci siano proprio dei grandi nascondigli mettiamolo qua e pazienza torniamo con quest'altra arma e allora qui c'è una batteria ma la lascio stare lì un paio di soldati e poi una porta proviamo ad attirarne uno ecco allora questo è lo scudo sta arrivando l'altro più velocemente vai un attimo un attimo cosa prendiamo il corpo dai devo spaccare prima lo scudo intanto ho sbloccato un altro slot per l'energia intanto mi stava massacrando ma mi sono distratto fantastico e ce ne prendiamo un'altra ottimo ottimo allora usiamo pure il drone stella marina non vuole che punta in automatico ah richiede un tesserino e si vede che non ce l'abbiamo quindi dovremo tornare ancora una volta di qua è il nostro standardo facilissimo da trovare e vediamo qua possiamo scendere settore riservato ah qui c'è qualcuno proviamo prima a passare di qua proviamo a fare un attacco in salta a questi maledetti vabbè ah c'è un oggetto ormai siamo inarrestabili per adesso vabbè era un nemico senza armatura questi nemici qui con l'armatura rinoceronte partono sempre alla carica diagramma ottenuto ma siamo in una zona già già visitata comunque ah mi ha fregato sì siamo già passati di qua siamo già passati e allora adesso corriamo un po' perché sì adesso mi sono ricordato qua ecco ci facevano l'agguato ecco da dove da dove arrivavano anche qui eh vabbè sono stato un po' troppo violento vabbè lasciamoli stare qui c'è il cane ma lo 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 trepassiamo vai via vai via ah wow eh no allora diamocene via sì siamo di nuovo di nuovo qua c'era un altro punto però dove potevamo usare il gancio dovrebbe essere quello se facciamo un giro torniamo eh nella zona dei medici dovrebbe essere di qua sì sì lo lasciamo stare anche qui andiamocene adesso sarà divertente andarcene via da questa parte qua senza combattere ah qui lasciamolo stare anche qua lasciamoli stare e andiamocene qui dove purtroppo lagga un po' che cavolo ah ok sono fatto prendere ma non bisogna mai sottovalutarli qua non avevo spaccato tutto allora andiamocene avanti dai standard eh sì se volendo avrei potuto fare il giro di là oltrepassiamo questa zona velocemente ah qui però ci sono quei maledetti devo stare attento però è meglio eliminarli va magari aspetto che se ne vada e ammazziamo prima quello via 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 come se non fosse successo niente quell'altro non se ne è nemmeno accorto si via no Oh Oh dai Ci siamo ripresi Ah di là vediamo Non c'è più quell'altro nemico lì Proviamo a fare i backstab Ah Perfetto E allora Qui non c'è niente C'era però una stanza bloccata Di qua Sì Adesso possiamo aprirla Wow Belvedere Dove vai? Un attimo Cosa possiamo prendere? Le parti per la gamba Ce la facciamo? Mettiamo da parte tutto Un'altra batteria Ottimo Qui c'è una Cassa E un passaggio Per andarcene via Diagramma Attrezzatura per testa Nanoward Ah è ok È quell'altra Quell'altro Esoscheletro Diamo un'occhiata Ordiniamole per nome Qui abbiamo la testa Corpo centrale Corpo centrale Non lo vedo Però poi controlliamo meglio dopo Sembra un set Che si può ottenere Soltanto dalle Casse Sparse in giro Allora proviamo a usare Quest'altra Teleferica Qua Una cassa Ok E non possiamo tornare indietro Siamo di nuovo Nella piazzetta Andiamocene via Velocemente Via Che Qua mi fregano In un attimo Eh no 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 Scusate Andiamo velocemente In alto Vediamo se ho dimenticato Qualcosa Qui non dovrebbero Più esserci Nemici Proviamo a salire Ancora Di qua Ah qui però C'era il Cane Cavallo Davanti il passaggio Segreto Ma o facciamo una corsa Ce ne andiamo via Velocemente Proviamo Sì di qua Ci siamo già Passati C'era l'altra Scatola Qua Vai Cominciamo a eliminarne uno Maledetto Aveva perso di vista Ma che cavolo Ma una cosa che sto notando È che Ogni tanto perde Di vista L'oggetto Che La parte di armatura Che volevo Prendere Oh qua mi sta massacrando Vabbè Non importa Era un rompiscatole Questo E quindi Non so Qua c'era Warren Se ne è andato via Immagino Sì E non c'è altro Va bene Allora Forse per questa zona Abbiamo controllato Tutto Adesso ce ne torniamo indietro Vediamo L'ultima volta abbiamo preso Questo passaggio Ce n'era un altro di qua Forse Vediamo se mi ricordo Eccolo lì Non so se Vediamo se è lo stesso Ah siamo di nuovo qua Va bene Allora Dovremmo aver controllato Tutto Rifaccio ancora un giro Velocemente Eh ma che cavolo No Di qua Oh Ma che mira ha Quell'uomo No Proviamo a passare di qua Se non mi rompe le scatole No Di qua no Ah Incredibile Sono sbagliato Vabbè No mi Sono dimenticato C'era una parte Dove non siamo andati Forse Ah sì Proviamo di qua Via No di qua Di qua Volevo controllare meglio Anche di qua Via via Sono già nei guai Abbastanza No Ecco Andiamo avanti di qua Ah sì C'è un oggetto Uh cavolo Eh vabbè C'era una porta da aprire Eccola qui Eccola qui la porta No Mi ha rotto le scatole Via Adesso però Vendetta Voilà Allora Apriamo finalmente Questa porta Vediamo per cosa abbiamo fatto Il casino Cassa Va bene Speravo in qualche Super arma Definitiva Allora Allora Vediamo un po' Dovremmo sbuccare Ah eccoci Sì allora da qui in poi abbiamo controllato Possiamo tornare indietro Se riesco Sì Eh volevo tornare anche al Nella zona di non combattimento Dove abbiamo incontrato la dottoressa Eh che ci ha dato la La missione Vabbè lasciamo stare Eh ok eccoci qua Quindi andiamo un attimo a Alla nostra Medbay Deposito tutto Quindi abbiamo girato di nuovo Eh praticamente nelle stesse zone Però abbiamo aperto anche delle porte Eh extra Questo tipo qui vorrebbe il nostro gancio Però Per il momento non glielo lascio Perché mi ricordo che anche in zone Dove siamo già stati Eh c'erano dei punti dove Eh c'era la possibilità appunto Di usare questo gancio qua E volevo Eh provare a usare questa porta Che è dal centro città di Gerico Quindi in teoria è una zona dove siamo già stati Vediamo un po' dove sbucchiamo E' anche buio Accendiamo la luce Centro città Abbiamo subito un bivio Proviamo a usare prima l'ascensore Allora lì Possiamo sbloccare la porta Immagino Eh ma dai ma basta eh Eh siamo Vicino al centro dell'ID Ti devo spaccare questo scudo perché Non ti dona Eh eh Perfetto Sì siamo In questo punto dove siamo già passati Vai Ho una batteria Quindi abbiamo sbloccato Una specie di shortcut Siamo passati di qua Eh dovremmo essere vicini Alla Alla zona di non combattimento Eccola qua E andrei dalla dottoressa A darle la Medicina per quei disgraziati lì In teoria è già da un po' che aspettano Allora andiamo dritti da Sì Non di qua Dalla dottoressa Era vicino alla Mad Bay No di là Torniamo indietro Dovrebbe essere qua E tra l'altro però Era sparita la sua Missione Vabbè Ma queste cose ce l'aveva già dette Che ti succede? Ma Lascia che ti aiuti io ma Se non sbaglio gliel'avamo già detto Eh sì Ma un secondo solo Allora Ci vediamo Eh Ma chissà che cos'è successo Deve essere successo qualcosa Quando Mi si è Staccata anche la parte per la gamba Si vede che In qualche modo ha resettato delle quest Sì va bene Chiedevolo quanto valgono per te questi medicinali Ah vabbè ci ha dato Avverto un leggero cinismo Sì Questo ce l'aveva già detto Ci vediamo Ma non gliel'ho dato Ah mi sa che Ho concluso male la quest Vabbè Alla fine è andata male Per un pasticcio che è successo Vabbè Vediamo anche lui Ok Non so Abbiamo risbloccato Risbloccato La stessa missione Deposito tutto E aumentiamo un po' di livello Basta così Che cosa strana che è successa però Non è che mi abbia fatto tanto piacere Comunque Vedere che La quest si è Resettata Della dottoressa Va bene comunque Per questo video Io mi fermo qui ragazzi Spero che vi sia piaciuto E vi do appuntamento Con il prossimo video Sul canale di Safutobu Ciao a tutti Ciao a tutti Non so Ciao a tutti Grazie a tutti.